Musica Ok, riprendiamo da dove ci siamo salutati Ok, eravamo qui C'è qualcosa qui? Oh, una macchina da scrivere, finalmente C'è lei, sempre lei Oh, oh, oh Eh, beh, non morì adesso Oh, santo Dio E' culo La chiave, the key The key Rispondi a sto telefono Scusa, ma dallo specchio non mi guarda? Sono desolata, ma purtroppo quel mentecatto di Heisenberg Si è fatto sfuggire Heisenberg No, scusate, raga, scusate Uno che si chiama Heisenberg, però, cioè No Perché adesso è nel castello E sta dando del filo da torcere alle mie figlie Quando l'avrò trovato? No, madre mia Sì, certo che comprendo l'importanza della cerimonia Non vi delidero Madonna, fra Stai calma Allora, raga, precisiamo che voglio dire due cose Uno Questo Resident Evil assomiglia fortemente In un'altra prospettiva Go to War 3 Ovvero affronti tutti i boss E... Credo, non lo so Affronti tutti i boss E poi alla fine arriva al capo Per dire, arrivi al capo E lo uccidi Secondaria cosa Che mi sono scordato di chi Tra l'altro Vabbè, poi se mi viene in mente Ah, sì, tra l'altro Ethan, nel nostro protagonista Ha affrontato licantropi Vampiri Ma non muore mai questo cristiano Eppure è una persona Non è che Cioè Abbiamo affrontato di peggio il Resident Evil 7 Però Ho capito Cioè Ma non muore mai Allora Però prima The Vice Allora Abbiamo poche munizioni Del Pompas Ma davvero Dove essere uguale The Key Chiave di Alcina Questo ci serve un bo Non l'avevo notato Allora, se vado di qua Giustamente È chiusa dall'altro lato Oddio Cristo E com'è? Com'è? Cosa di una mocciosa Che non è neanche qui Che cazzo ne f***o Tu, miserabile Egoista Ingrado Ti introduce Nella mia casa Con quelle luride Ti permetti Di toccare Le mie Figlie E adesso E adesso Cerchi persino Di rubare Le mie Proprietà Come Osi Cerca di goderti Questa tre Perché presto Ti stanerò E ti farò A pezzi E non posso farlo Perché? Allora, mettiamo un'altra No, mettiamo in ordine Questa cosa che Allora, questo lo mettiamo qua Questo lo mettiamo No, perché Vuoi mettere in ordine Tutte se Allora, lo so Che sono un po' Satico In queste cose Ma Allora Questo lo mettiamo qua Questo lo mettiamo qua Questo lo mettiamo qua Insieme alle pistole Così abbiamo le munizioni Sia per di qua Sia per di qua Poi questo Lo mettiamo per di qua E questo con gli oggetti Eh Più ordinato, cazzo 300 lei Vai Ok Ok Aspetta Primo Voglio vedere se ci sono Oh Mille lei Vorrei vedere se ci sono cose in giro No Per il momento Non ce ne ha niente Cosa No, non mi dica dovevo scappà Eh vabbè Ma loro si destrozzi però Ma viatete qua Puttana 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 Ma no Mozzata Dove sei? Dove sei? Vieni, 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 vieni Vieni, vieni, vieni Velocco, 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 veloci,67 Via, 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 via eh lo so, lo so, lo so un attimo Ragazzi Un attimo Corri! No, non mi Fotti di Dove devo andare? Dove? Sei stronza Veramente De solito Tutti qua Ok Coglione di merda Pezzi Pezzi veramente di fottermi Usa sta chiave Sta chiave da Cina Veloce Ok Padre mio Vaffa culo Questo lo deciderò io Minchia fra che adrenalina Eh la mano fra Eh Chissà che cazzo farai Ma davvero Ma di che ha fatto De la soluzione medica Di che ha fatto De De attack Senta se muove pure Ma dai Ma dai Cioè capivo Capivo il 7 Che In poche parole la mano Gli era stata tagliata Alla sinistra Poi l'hanno ricucita Con le pinze E allora va bene Però Questo non ha senso Non ha proprio senso E a vedere il C No però lo sai che vorrei Oh Ma vaffa culo Ma come cazzo le permetti Le fa beccacca sotto No No io faccio così Mi interessa Bella sta spada al volo No io devo andare un attimo Dal Eh no Andate a cagare Tutti quanti Devo andare Da coso Dal Duga Duga Pelli Eh È un piacere Vederti San e salvo Come procede Eh Non ho trovato Rose Ecco Mi dispiace immensamente Dico davvero Beh Una volta fuori dal castello Allora capirai come trovarla Hai bisogno di qualcosa Prima di proseguire? Sì Grazie al tuo continuo supporto Ho potuto ampliare i miei servizi Desideri acquistare qualcosa? Allora Barsello del Duga Madonna quanto Questo Questo E poi c'ho 7500 lei Quindi va bene No a posto Ah ce ne ho tre di questi No buono Vendi vendi Non lo sapevo scusa Allora che c'abbiamo qui? E le solite robe Allora Allora questo lo prendiamo stavolta Stavolta Ok E No Voglio questo Cadenza di tiro Velocità di ricarica Su questo Grazie per il tuo supporto Ah quando batto il cuore Vedete che sta partendo la musica Ok Io sempre che mi cago addosso Perché sono un coglione di merda Sembrerebbe funzionare Arriviamo dopo ragazzi Eccoci qua Eccoci qua Allora Dobbiamo andare Sempre al cortile Sorella Però scusami eh Tu sei molto maleducata Perché stavo andando da una parte E tu mi vieni appresso No 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 E vabbè Quante robe No zitti 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 tutti Zitti tutti Interagisci Chiave del Cina Veloce Mappa del castello Dependence Ho chiuso l'altro lato Mocca a mammita Ma si può craftare Oh Ovviamente Attenzione Il rossetto della signora è sparito Chiunque lo trovasse è pregato di riportarlo nel suo bagno È stato fabbricato apposimamente per lei Ed è molto costoso La governante Ah Vabbè se lo trovo Non entra in questa serratura Un giorno dal trattamento Le tre ragazze non si muovono più Sembrano quasi morte Dalla bocca Dalla bocca del più grande fuoriuscito un insetto Sembra una normale mosca Due giorni di trattamento Tua mamma Eh Niente Ma dove siamo qui? Finita Sfera Ho capito dove serve questa Sfera Ho capito dove serve Il giochetto Del Cristo Re Del Duga Ogni volta che parte sta canzone Della music Error Che reagisci L'età Pezzo di merda Mi botta Io sono un soggetto anche per gli infarti Non potete farmi questo Allora Di stessa Pianoforte Interagisci Scatti Ruggi niti No Gia Ne sape un altro Polvere da spara Ce l'abbiamo No L'abbiamo E io sapevo suonare questo Piamo con stemma di ferro Oh Con tre dita Tra l'altro eh Allora chiave con lo stemma di ferro Dove dobbiamo andare? Basta e basta Mi sto sparando Quante volte Cristo Ma se ti sparo Muori Scarti di metallo E che significa? Dove devo andare per Ah ho capito dove devo andare Hai finito di rompermi il cazzo? Eh Eh me sa che però Mamma mia Mamma mia Donna di merda Sei una pezza di merda Stronza Gli ha morì Gli ha morì E basta Devi morire Porca puttana Che spaventa di merda Mocca mamita Ma si può fare? Ma si può fare una cosa del genere? Gli ha Su Gli ha Eh Che è qua? Finalmente sei venuto a trovarmi Tutti si innamorano No No Cazzo bella Dove vai? Dove vai? Un sogno È solo un sogno Sì No 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 Riapri Interagisci Ma Basta Hai tutto il cazzo Dai Malediti Mi riesco Che mi fa spaventare così Però Ma orco due Oh Non è leale Lo cazzo non ha No Vado di qua C'è niente qui? No Non c'è 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 Però ragazzi Potete farmi spaventare così Perché veramente Io vorrei bestemmiare Addio Ah Buone munizioni Da pistola Allora Se troviamo il bagno Desta puttana Ok Abbiamo trovato La seconda madonna Qua Fa' un culo Troppo tutta la roba De chiedere Fa sì che le cinque campagne Li suonino Allora Uno ce l'abbiamo Qua è la seconda Qua è la seconda Una Due Tre Vista Uno dovrebbe stati qua Giusto Quattro Quattro E la quinta Direi La quinta Ne so quattro Vabbè 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 Ma perché Trova quinta Dov'è Levela La quinta Ah eccola Cinque campagne Spera di non Ritrovarci una sorpresa Sopra Dalle scale Molto bene Era un grimardello Comunque abbiamo preso Ne sa Vero Mappa del tesoro Dopo La vediamo Il tuo avventario è pieno Aspetta Ma lo si stiamo Lo si stiamo Ma che si butta Non si butta niente Allora Perché Qual è il problema Il problema È che Questo dura 6 slot Quindi Dobbiamo Far si che Il modo Migliore È Mettere questo Così Questo Però Così E Il problema È proprio questo Questo qua Se no Potremmo metterlo Allora Ho un'idea Aspetta Allora Questo Lo si mette qua Ma lo sto usando? Ora non ce l'ho Ok Allora Questo No Allora Questo lo si mette qua Questo lo si mette qua Venga Trovato Questo lo si mette qua Scusami Allora Arrivacciamo Questo lo mettiamo qua Questo lo mettiamo qua E questo lo mettiamo qua Confermo Molto bene Molto bene Allora Scommetto che Visto che abbiamo Il cecchino In teoria Ci saranno Dei mostri volanti Immagino Vero? Mi ricorda Vagamente Percy Jackson King Kong Vagamente Però No Potrei perdere il controllo E non posso Ah Stai fiammo lì? C'è chi? Quello c'è morto Stai fiammo lì? L'altro Dai avvicinate pure tu Dai Coglione Su No? Vanno così? Vanno così Vanno così Qua quando è? Su far sapere Nei dubbi Mettiamo la pistola La pistola Per sicurezza Quanto fucile Per precisione No 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 Carò Che schifoso Ripugnante Ecco Adesso potrei fare Munizioni Del fucile Diventare il pieno Molto bene E non so che fa A meno che No Non mi posso scattare questi Questi no Questi li scarto Sì Scatto Mi servono più Le munizioni Del fucile La pompa Questi mi servono di più Appena uno si avvicina Boom Appicinate? Vieni Dammi qualcosa Bravissimo Dai Dimmi che c'è qualcun altro Bravo Vieni giù Pure tu Vieni giù Che poi io pensavo Che erano più piccoli Invece no Ha la cristallizzata Wow Uh bello No niente Tutto bello Ma Poca milcia Ma c'ho spazio? E mo Non ce l'ho più Ma non mi sa che devo utilizzare Equipaggio Aspetta 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 No 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 Questo Questi li scattiamo Questi li mettiamo No 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 fa così, vero? Maschera della fluida. Ok. Diciamo che siamo in un buon punto. Si può creare... Si possono creare, dai, dai. Si può chiamare l'ascensore? Si può chiamare l'ascensore. Shortcuts. No, cazzo. Shortcuts. Significa... Pochi colpi, ragazzi. Pochi colpi. Mi sa che mi portano questa, perché questa è più performante come pistola. Ok, siamo riappassi qui. Dobbiamo andare dal duca, dal duca. Quindi, dobbiamo andare a qui. Arrivo subito, caro. Vediamo che dobbiamo fare questa. Ok. No, vieni, vieni, vieni. Qui non può entrare. Teschio di gremi, sì. Chissà quanto verrà. Certamente. Oh, santo Dio. Sì. Allora. Baligia. Subito. Sì, sì. Proiettili, certo. Basta. Potenziamento. Se aumentiamo la capacità, c'è da più munizioni. Sì. Però... Perfetto. Ora, facciamo un po' di... Bene. Ok. Ragazzuoni, direi che questo episodio, questa puntata, può terminare così. Garzuzio, direi che, per ora, vamos, acakes. Basta,charged. Sì. Sì. Sì.